Mi chiamo Enzo Capuano e vivo qui alle vele da sempre. Ma come si fa a lasciare un posto così, senza nemmeno lottare per cercare di cambiarlo? Questi ragazzi li ho raccolti ad uno ad uno per strada e sono felici. Però quando vedo che si perdono, mi fa sempre male. Ci siamo. Ho capito che Tony era pronto. Abbiamo faticato tanto per queste Olimpiadi. A fare il padre, si impara mentre lo fai. Alla fine abbiamo realizzato un solo. Abbiamo portato Scampia fino in cima al tetto del mondo. L'oro di Scampia. Lunedì alle 21.10. Rai 1.